30 agosto 1992, il Ravenna fa il suo esordio in C1 pareggiando in piena zona Cesarini contro gli Aquilotti Spezzini. Deviato per Gamaschi, per Amarotti, il tiro è gol! Un gran gol! Rossi da scapolo e c'è una deviazione, c'è una deviazione, porca miseria, una deviazione sfortunata! E' una peffa, veramente, dobbiamo parlare di peffa!